La voce dell'arte è ascolto della fantasia, esuberante volontà da soddisfare ed espressione umana che non sa tacere. Essa non sa morire laddove i suoi natali vedono la luce, ma vuole che le sue parole riempiano le strade, le città e i territori. Per questo Febus Italia ha dato vita al Contemporary Art Tour, la mostra d'arte itinerante che sta toccando molti comuni del nostro paese. Contemporary Art Tour è l'originale proponimento per artisti professionisti e comuni interessati. È una mostra itinerante per una maggiore visibilità e per molteplici eventi culturali. Ogni forma d'arte è parte di un unico progetto che si propone un solo intento, regalare stupore ed emozione. Diventa così un'opportunità di appuntamenti di pittura di rilievo per i comuni che vogliono aderire. Gli artisti maestri consegnano le opere a un nostro curatore che si occuperà di montare, smontare le mostre e gestire tutte le aperture. Contemporary Art Tour è il nuovo progetto di esposizioni collettive, la nuova frontiera dell'arte in viaggio. Che aspettate dunque, creatori di intense suggestioni? Sono ancora aperte le iscrizioni e le opere da far viaggiare verso nuovi e stimolanti territori saranno l'ondata di colore e suono che ogni artista potrà donare agli appassionati di ogni luogo. Contemporary Art Tour, l'arte in viaggio verso nuove terne. Contemporary Art Tour